Con il presidente dell'Aicom, Marco Laraspata, per guardare a questo ennesimo fine settimana di ripresa, ne abbiamo già passato uno per la verità, oggi sabato 19 di giugno, qual è la situazione che ci ritorna dai vari soci, dal tessuto commerciale ischitano? La situazione è che praticamente tutti sono in riapertura, quindi giorno per giorno si aggiunge sempre un'altra attività, per quanto riguarda i negozi tradizionali, non quelli che fanno food, c'è una crisi incredibile perché mancando i turisti e con gli isolani con pochi soldi in tasca, chiaramente i numeri quelli sono, non ce li possiamo inventare, la settimana prossima apriranno altre attività, qualche attività che aveva deciso di non aprire sta riconsiderando di optare per la riapertura, anche che solo per 3-4 mesi, ma le prenotazioni per luglio e agosto credono che stiano arrivando e anche tante, il problema è che poi il distanziamento sociale ci farà stare con i numeri più bassi rispetto all'anno scorso. C'è però una nuova iniziativa che l'Aicom sta cercando di promuovere che riguarda i fitti dei locali commerciali, giusto Presidente? Sì, assolutamente sì, noi abbiamo redatto un protocollo per la gestione della rinegoziazione dei fitti per le attività commerciali dell'isola d'Ischia, l'abbiamo condiviso con tutte le associazioni, da Confcommercio, Confesacenti, Federalbergo, Balneari, un po' tutto il nostro tessuto, perché adesso stiamo ragionando come intera isola e non come comparto chiuso di una semplice associazione. L'abbiamo preparata che è valida per tutti, sottoscrivendo praticamente una premessa nella quale diamo dei numeri oggettivi che danno un calo del 50-70% nel fatturato nel 2020 e un calo dal 25-30% nel 2021. Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto anche un'indagine tra i commercianti e quindi è emersa questa difficoltà economica praticamente a gestire i costi in virtù del fatto che poi il calo degli incassi è all'ordine del giorno e quindi non si battono scontrini. I nostri dati sono supportati anche da studi nazionali, quindi non stiamo dicendo niente di nuovo, stiamo solo confermando quello che hanno detto a livello nazionale, lo stiamo poi trovando anche sul nostro territorio. Quindi in virtù di questo che abbiamo detto abbiamo chiesto e chiediamo un intervento ai proprietari dei locali commerciali di capire questo momento e di permetterci di andare avanti, perché se l'attività va male è chiaro che poi il fitto è difficile pagarlo, quindi voglio dire una persona che si trova in estrema difficoltà, se non ha i soldi per pagare non paga, quindi se ragioniamo assieme e facendo anche capire il momento difficile sia di quest'anno che dell'anno futuro che verrà, tentando di avere una riduzione del 50% sul canone di locazione che può sembrare tantissimo per i proprietari degli immobili, ma vi posso garantire che qua veramente ci vuole un intervento importante, perché se non succederà questo, succederà il fatto che molto probabilmente nessuno avrà la forza di pagare il fitto, quindi si perderà tutto, non si perderà solo il 50%, quindi praticamente noi stiamo chiedendo di superare insieme questo momento, riuscire poi a riportare con questo intervento tutte le attività nella normalità e quindi gestire questa cosa nella situazione migliore, è importante che però nell'ambito complessivo di questo ragionamento tutti gli attori messi in campo facciano squadra, nel caso nostro i proprietari dei locali, collaboratori, il governo, le amministrazioni comunali, c'è un piccolo pezzo a testa, poi ci consentirà di poter chiudere questo 2020 spero in parità per poi procedere nel 2021 con gli utili. Però mi dicevi che Presidente anche per l'anno prossimo voi in realtà avete già paventato un possibile calo, se per quest'anno intorno al 50-60% si parla comunque di un calo, penso sempre rispetto al 2019, del 30% per il 2021, questo diciamo in virtù di una eventuale seconda ondata dei contagi o come semplicemente riflesso di un anno difficile dal punto di vista economico? Allora la domanda è corretta, è molto anche studiata, devo farti complimenti, perché sicuramente abbiamo preso in considerazione una seconda ondata, io credo che non ci sarà, però se dovesse arrivare sappiamo come comportarci ormai, ma io credo che questo calo di fatturato l'abbiamo studiato a tavolino del 25-30% sarà dovuto a un importante fattore economico, cioè quello lì che i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo saranno i più difficili della nostra storia economica, perché noi solani in tasca avremo poco e nulla da spendere, quindi anche questo, considerando anche il consumo del mercato interno, perché non ci dimentichiamo che comunque siamo 66 mila abitanti, questo mercato interno dà un certo valore agli utili di tutte le attività, quindi questo calo è dovuto anche al fatto che noi non avremo soldi da spendere e quindi è inevitabile. Ci sarà eventualmente bisogno di una ulteriore mano del governo, proprio in tal senso, in conclusione Presidente, ci sono stati i lavoratori stagionali che hanno redatto in qualche modo una proposta che verrà portata agli organi più alti a livello istituzionale del nostro Paese, prima al Consiglio regionale, poi addirittura a Montecitorio, insieme ovviamente ad altre realtà locali del nostro Paese per la creazione di una nuova forma contrattuale a livello nazionale, un contratto unico nazionale per i lavoratori stagionali. Potrebbe essere questa la soluzione per evitare, magari in caso di ulteriori problemi, di ulteriori ondate, ulteriori difficoltà per il comparto turistico, in particolare un modo per snellire anche le procedure di rimborso ed evitare queste rincorse farraginose a questo, a quel contratto, a quella soluzione, lavoratori in somministrazione, contratti a tempo indeterminato? Sì, io non conosco il modo tecnico la proposta, ma sicuramente un unico contratto per gli stagionali rende più fluida qualsiasi altra situazione burocratica, quindi snellisce velocemente tutto quello che è il mondo delle virgolette, degli apostrofi e della burocrazia italiana. Io per quanto riguarda invece la forma di aiuto e di sostegno ai lavoratori stagionali, il governo ha messo in campo e credo che metterà in campo l'allungamento della Naspi, perché sono già consapevoli che le attività turistiche non faranno più di 3-4 mesi al massimo, anche se noi stiamo tentando un ragionamento per portare la nostra stagione alla Befana, per intenderci, al 2021. Poi parallelamente l'Europa sta mettendo in campo una forma di aiuto con il SURE, che è un altro strumento, collegato poi a una forma di sostegno che non si è capito bene, che l'Europa darà al governo e poi il governo probabilmente darà direttamente ai lavoratori stagionali. Sicuramente non lasceranno nessuno indietro, perché non lo voglio pensare, perché laddove succedesse sono sicuro che la gente non scenderebbe in piazza e basta, senza creare assembramenti o in modo civile e pacifico. Penso che la gente con la fame agli occhi farà ben altro, non sicuramente sarà così diplomatica come è stata fino ad oggi. Speriamo che questi scenari restino solo nelle più catastrofiche previsioni, con un sorriso Presidente che possiamo fare attraverso questi schermi. Grazie al Presidente dell'Aicom, Marco Laraspata, per essere stato con noi. Presidente, noi ci aggiorniamo alle prossime settimane, restiamo vigili, restiamo sempre in contatto con la realtà della economia ischitana, sperando di poter raccontare nelle prossime settimane qualche scenario dalle tinte meno fosche. Grazie a voi, buona serata.